Ci troviamo a Cinecittà World, vicino Roma, andando verso Pomezia, esattamente, ecco vedete il trenino delle montagne russe che sta partendo in questo istante, lo seguiamo qui da lontano, vediamo dagli urli se è un, se è diciamo pericoloso, una shock machine, eccola qui, una shock machine, non si sentono urla, quindi abbastanza, non è molto, non sembra molto cattiva, possiamo dire, ecco. Ci troviamo quindi a Cinecittà World della De Laurentiis, se non erro, questo parco tematico dedicato al cinema, la famiglia De Laurentiis da parecchi decenni si occupa di cinema ad altissimo livello, e non solo di cinema, anche di calcio, perché appunto De Laurentiis è anche il presidente del Napoli Calcio. Ci troviamo a Caster Romano, ecco, Caster Romano è la zona che si trova tra Roma e Pomezia, sulla Pontina, e insomma, oggi non è una giornata nuvolosa, non c'è tanta gente qui al parco tematico, Cinecittà World. Certo, il fascino del cinema è parecchio e contiamo nei prossimi giorni di regarci all'interno e di riprendere nei dettagli quello che sono le caratteristiche e la bellezza di questo parco tematico. Ciao a tutti.